Musica Le breaking news di Teletruria ben ritrovati, subito la musica, il tenore Vittorio Grigolo sabato prossimo 2 marzo proporrà da Rezzo dove è nato peraltro il suo recital che poi porterà a Vienna, ai nostri microfoni si è particolarmente emozionato nel constatare la bellezza e la magia del Petrarca, dunque l'appuntamento è per sabato prossimo alle 19. E questa mattina invece in Sala dei Grandi un incontro, la vita una seconda possibilità sull'importanza dei defibrillatori negli ultimi anni, a Rezzo città ma anche la provincia stanno diventando sempre più cardioprotette Grazie appunto all'incremento sensibile di questi strumenti indispensabili nell'emergenza, un progetto voluto in modo particolare dal dottor Massimo Mandò, tra le premiazioni anche Daniele Tognacini, dirigente sportivo E poi appunto chiudiamo con lo sport, indiani alza alla voce, stiamo parlando ovviamente di calcio dell'Arezzo, niente scherzi con l'Ancona dice mentre si avvicina questo appuntamento E poi a Maranto sabato puntano a riprendersi i tre punti dopo la prova di carattere di Ferrara, ballottaggio probabile tra Guccione e Catanese È tutto per approfondire queste ed altre notizie, potete andare nel nostro sito teletruria.it o nelle nostre pagine social